LLD400 è un amo a filo medio in black nickel, è un amo barbless, quindi privo di ardiglione e con la paletta. Questo amo è destinato soprattutto in tutte quelle zone dove è prevista la pesca no kill e quindi è vietato l'uso degli ami con ardiglione. Però anche in tutte quelle zone, in tutte quelle fisheries dove facciamo competizione e un amo senza ardiglione, oltre a presentare molto meglio l'esca, facilita anche la slamatura del pesce senza rovinargli l'apparato boccale. La curva ampia del CLD400 facilita appunto la presa nell'apparato boccale del pesce evitando le slamate che comunque ci possono stare anche con un amo dotato di ardiglione. Il CLD400 è destinato all'innesco del bigattino nelle misure più piccole, ma anche all'innesco del mais nelle misure più contenute, ma possiamo innescare tranquillamente lombrichi ed altre esche destinate alla tipologia di pesce che intendiamo insediare. Il CLD400 è disponibile nelle misure che vanno dal numero 14 al numero 26.